La Madonna del Solletico di Masaccio lascia gli uffizi fino a novembre per questa mostra inaugurata oggi nella cripta del Duomo di Siena. La cattedrale di Siena è dedicata alla Madonna e qui la Madonna del Solletico, che fu voluta dal cardinale Antonio Casini, trova davvero un'accoglienza del tutto particolare. Il fascino di questa mamma, effettivamente della Madonna, che sì, è rappresentata come tale, però nel ruolo di una mamma che fa un gesto, quello del Solletico, che sembra preso da TikTok o da Instagram, cioè di una naturalezza tale che sottolinea anche proprio il mistero dell'incarnazione. Si capisce come mai Antonio Casini, il cardinale Casini, lo portò con sé per tutta la sua vita, che era un formato anche piccolo, più o meno come un tablet oggi, così come oggi noi teniamo le nostre foto sui cellulari, sui tablet. All'epoca era questo il medio dell'opera d'arte trasportabile, che si poteva mettere la mattina presto, la sera per meditare, per pregare, ovunque era nei suoi viaggi. Spero che anche chi visiterà questa mostra, chi verrà qui, possa, oltre che godere della bellezza di questa opera e delle altre che vengono qui raccolte, anche ripensare un po', guardare un po' dentro se stessi, ripensare la sua fede, il rapporto tra la Madonna e il bambino, di cui abbiamo infinite raffigurazioni nella storia dell'arte, quindi questo è veramente originale, con queste dita poggiate sotto il collo del bambino che l'hanno fatta chiamare così, un po' Madonna del Solletico, come se la Madonna stesse così, come fa ogni mamma con il proprio figlio, quasi solleticando.